salve ragazzi qui edultentotto siamo su god of war no ragnarok e scherzi a parte niente siamo nella tana degli elfi oscuri che sono dei scarafaggio praticamente noi dobbiamo andare per di là blocchiamo tutte vediamo che stanno succederà casini quindi ora vediamo come si poverà cazzo mi ha messo un'ansia lì quando cadrà si è pronto dobbiamo agire in fretta che ansia sarà per sta gentaglia sto schifo dai succederà il bordello e il bordello arrivano stammi dietro per il fianco ok ma come ti permette saluto di livello 1 vabbè allora andiamo di ammazzurla rete non ci sono domani continuo a tirare io scompro la strada ok ok questo mi è piaciuto perché è vero perché sono tutti tanti a te tu ti ammazzurla dopo l'altro bello bello si sei tu dai boli ma ron che bello l'ulto abbiamo fatto una strage dei vicendi dai corre 3 aderora e con i like con altri luoghi ragazzi aia la botta ti sei fatto male sto bene in che senso ho visto la meglio la luce fa riapparire il tempo è la fonte di tutto quanto senti sta sta cantando sento la sua voce te l'avevo detto che era lei pensi che sia lì dentro quanto fa male sembrava che la mano andasse a fuoco resta qui resta qui usala solo se necessario grazie ti ho affidato la mia ascia non te l'ho regalata del tipo non la scaltire perché poi dopo te meno se c'è qualcosa madonna ma Kratos se ne sbatte io voglio entrare ce basta madonna ma che figa che mi succede no devo seguire la luce la devo seguire devi tornare indietro mi hai lasciato qui su Atreus solo con lui oh che figata no adoro queste cose qui lui se ne va sempre non è mai qui non mi vuole e non mi vorrà mai io lo seguo così perché è più figo Corby ti sposti via di là aspetto ma arrivo è la casa comunque è molto bella che tocca come molto l'argomento del padre del figlio è molto bello questa cosa si io non ho voluto vedere spoilerarmi il gioco ragazzi so benissimo che parla molto del padre del figlio e di Kratos che è diventato padre che comunque si è ramollito non è vero lo so che non si è mai ramollito io non lo conosco e lui non mi conosce non sembra il fissato io sono forte sono intelligente non sono come pensa lui io lo so quello è Thor lui non mi parla lui non mi insegna niente doveva morire lui mi senti lui non te madonna che figata quindi devo andare in acqua no non credo proprio no devo ritornare indietro ok ok che cosa è tutto questa cosa a pesci ma vedete come cacchi è accuratissimo ma mamma di che cosa stiamo parlando sono tra pesci gatto e pesci bellissimo ma che cosa sto sentendo è un capolavoro non questo pesce però è neanche quello ok quanto poi dovrei salire sopra bellissimo questa cosa però o dovrei andare per di là ma non dico sul serio sai che gli voglio bene vorrei solo che fosse migliore so che potrei bellissimo bellissimo queste cose i reparti artistici io vado pazzo raga per queste cose se ci proverà io ci posso ma se non lo farà ti prego torno lo so che ci sei bellissimo bellissimo ok vediamo il modo dove stavamo andando no troppo bello raga mamma mia per finire camminare raga fai aspetta torna da noi no no che cosa hai fatto perché l'hai fatto ti ho salvato tu eri intrappolato ti ho aspettato tanto ma tu non uscivi più allora ti ho tirato fuori ragazzo sono stato via a pochi momenti no sei stato via per tanto tanto tempo io non sapevo cosa fare mi hai lasciato solo di nuovo di me non ti importa io ma è impossibile andiamo prima che tornino spero tu abbia ciò che volevi sì è la madre bellissima ma non c'è luce per creare un borde siamo in trappola e la corda della strega parentesi la mia ascia oh la mia ascia oh la mia ascia ah eccola ehm ascia non la posso prendere perché non la posso vabbè forse credo che devi parlare prima con lui dai ho capito figliolo ragazzo l'arco tienilo oh al segnale scocca la freccia sulla roccia funziona ora possiamo tornare indietro vieni ho capito la mia ascia ecco ora va meglio mi sentivo un poco disorientato senza la mia ascia va bene ragazzi allora è successo un sacco di belle cose e mi è piaciuto tantissimo bellissimo anche madonna è preso tanto tempo quindi un po' come il mondo dei Digimon questa ha fatta una strage dei deficienti buona hai fatto esperienza spero che sia diventato fortissimo figliolo bene io ero nello spazio del tempo con Goku Vegeta e tutto quanto allora detto questo io vi saluto è stato molto bello ok in realtà è durato molto poco ma quello che ho visto prima ragazzi era un spettacolo quindi la interrompo qui e si ritorna alla classica routine bene qui del 38 al prossimo video passo e chiudo bella però 13 e 22 sai che faccia al diavolo che andiamo 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 stavo a pensare stavo a pensare ma che cosa troppo poco ok eh si però qui non c'è ok c'è un problema ho notato forse può scendere perché qua no forse ci aiuterà a uscire da questo stupido posto se è un altro che io sto un po' esaminando ok ok non c'è ok speravo ah interesting quindi se io lo metto qui sopra interesting dai andiamo un altro un altro ok si ok quindi dobbiamo levare sto cosa si andiamo oh che figo come giro il coso che andiamo dai non c'è credo dai ci impieva più del dovuto ecco perché eh eh molto furbo eh c'è un problema ok ok andiamo no devo passare comunque sti così gommosi fanno mettere ansia ok però ah ok 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 dalla prospettiva credo che il punto esatto sarebbe mirarli ok capito ecco 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 Vediamo se riesco a prenderlo Ok Oh grande Ok è andata Vabbè in realtà è stupidissimo il percorso Dai dovevo ritornare solo indietro Ok Comunque è stata molto bella la scena con Con la Con quella scena di cui è stata troppo bella È troppo divertente fare questa cosa Perché faccio una straccia Andiamo Piedi fuga Via Beh sto guardando Mamma mia Cazzo Levati Oh grande La soddisfazione Allora che stiamo dicendo Ok Ok Bene Qualcosa mi dice che Ecco Molto interessante Ma qualcosa mi dice che Sai Questo non deve stare qua Ma probabilmente deve stare qui E probabilmente Devi aprirlo Eccolo Guarda qui Dai vieni qua e leggi Microbot Quindi Non mi dici nulla Figliolo Figlio mio Adorato Tessoro Cucciolo Che non sei altro Figlio Va bene Non mi dici nulla E' arrabbiato Ho capito Vabbè Volevo essere gentil Voglio essere il padre migliore del mondo Uccidendo nemici E' cercare di salvarti Madonna che caro La porta blu che non è una porta E' una vasca Ma come faccio a raggiungerla Ehm In realtà un'idea ma la so fatta già Ma la stacchiamo qui Mi dispiace raga Anzi In realtà Si So cosa devo fare Bene raga Io la saluto qua Qui del tento Ora sta corrente Qui del tentotto Passo e chiudo Bella raga Ciao Ciao